Oggi vi mostro Rayman Fiesta, l'applicazione, il gioco di Rayman per, in questo caso, Apple, iPhone. Aspettiamo il caricamento. Questa è la mappa. E adesso andiamo a fare l'altro livello. Ah, questo da di là ci si accede, quindi andiamo a fare questa. Così, per mostrarvi come Rayman su. Telefono. Ah, per esempio nole. Adanzo, era un biscotto. Ecco, ho perso il dublone di... Finito. Mi è mancato un po'. Questa è la fine del livello. Conta quanti lumi hai preso. Coppa bagnino. E lumi servono per procedere di livello, di livello, di livello. Qualcosa abbiamo sbloccato? Un sacco di lumi. Raccoglio. Proviamo questi... Come mai non me le fa fare queste? Probabilmente... Ah no, me le fa fare. No, pensavo ci fossero due strade, ma erano obligatori. Andiamo a fare anche quest'altro livello. Sui ghiaccio. Mmm, pedellato. No, pensavo ci fossero due strade. No, non ho male. So saltato al tempo. E finisco anche quest'altro livello. Abbastanza veloce. Però simpaticissimo. In pieno stile Rayman. E si procede. Vi voglio mostrare anche che quando si completa il livello a corona si apre un... Vedete questo sopra? Si apre un livello giocabile a modalità più difficile. Andiamo. Ora ho sbloccato la modalità per spaccare tutto quello che ho di fronte. E quindi troviamo il livello... E anche questo personaggio è sbloccato. Giochiamo il livello con la manata, praticamente. Io mi metto... No, no, niente. Mi sento il fiato sul collo. Infatti, ve l'avevo detto. Mi sentivo il fiato sul collo. Via! Vicino! Finito. Comunque l'ansia d'affiato sul collo. Sbloccato un altro mondo. Con gratuazione puoi acquistare un nuovo disegno. Proviamo anche questo. Via! Parpechio gigante! Non mai va piano così. Via! Via! No, cioè, sono fantastici, questi fiusteri. Chi ne ha capa peroncini. No! Maledetta me! Mi devo lasciar cadere. Guardate. E questo è anche quella mia verità schiaffolante. Proseguiamo. Cordano.